Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere i problemi riguardo a PALWORD riguardo all'errore fatale oppure il black screen oppure che PALWORD non si avvia del tutto quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato tre link che ti porteranno sulla pagina per scaricare il net framework il download del DirectX End User Runtime e un altro DirectX SDK la versione giugno 2010, ovviamente andremo un attimo a scaricare il frame net framework quindi andiamo a scaricare l'ultima versione, una volta scaricato andiamo ad installare questo setup esegui come amministratore già installato in questo computer, ovviamente in passato avevo già installato questa versione poi su download DirectX End User Runtime scarica questo desktop scarichiamo e installiamo quest'altro accettiamo così il contratto togliamo ping toolbar che sarebbe il motore di ricerca fate avanti e lo installate e il DirectX del 2010 scarica una volta scaricato cercare sopra fate avanti io accetto tutti i termini, faccio avanti raccomandato faccio avanti scegli così la cartella ovviamente la cartella che ci dirà andare si sul programma file 86 ok, avanti fai avanti e installati se in questo caso a voi vi fa passare ve lo fa installare senza nessun errore avete fatto e lo facciamo fine una volta fatto vai sulla cartella di Palware ovviamente apri il percorso file proprietà compatibilità esegui il programma in modalità se non si apre a causa di quell'errore fatale per i vecchi aggiornamenti che avete cioè per i vecchi driver che non avete aggiornato sul vostro pc aggiornateli come vi ho fatto vedere e se non dovesse funzionare eseguiamo il programma in un'altra maniera Windows 7 o Windows Vista pacchetto servizio 2 o 1 mettiamo 1 disabilito ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore e facciamo applica se non dovesse funzionare possiamo anche installare manualmente un aggiornamento sulla scheda attraverso il gestione dispositivi schede video aggiorna driver circa driver nel computer eccole qua tu puoi scaricare cioè puoi installare direttamente questo certificato di modello sulla tua scheda oppure se hai un pannello di controllo per esempio io per Nvidia ho GeForce Experience e da qui aggiorno la mia scheda e invece per AMD si chiama driver e supporto AMD e qui scegli così il tuo componente lo invii e scarichi così il software e invece per Nvidia driver e qui cerco aggiornamenti e installo tutto qua quindi se questo video è stato utilissimo su come risolvere il problema all'errore fatale o schermo nero oppure che non si avvia a Palworld per i vecchi driver che avete sul pc e quindi andavano aggiornate grazie a questi tre software più gli aggiornamenti sulla scheda se hai problemi commenta sotto al video per altri problemi ancora puoi sempre fare una verifica al gioco tipo faccio un esempio sulla rotella proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco tipo una verifica a Palworld quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao